Non basta la saltuaria manutenzione del Fosso Grande, affluente del Pescara che nasce a Montesilvano e attraversa Spoltore, il capoluogo adriatico. A dirlo è il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, che ha presentato un'interpellanza al governatore Marsilio. Generalmente la portata del canale è di 10 o 15 metri cubi al secondo, ma nel dicembre del 2013, quando un'esondazione provocò danni per circa un milione di euro, scorrevano 150 metri cubi di acqua al secondo. Situazione questa che si è ripetuta anche nel luglio del 2019. Oggi nulla è stato fatto di questa grande, possiamo dire, infrastruttura importante per regimare le acque. Hanno fatto delle opere che io chiamo pagliativi, di sostruzione del canale e quant'altro, che non hanno risolto il problema, hanno solo peggiorato il problema. Perché i soldi sarebbero già stanziati? Sì, sì, ci sono soldi. Sono soldi, 800 mila euro, poi c'è stata una piccola decurtazione, certo servirebbero più fondi, ma già con questo iniziamo a fare delle opere importanti. Perché ancora non hanno utilizzato questi soldi che sono a disposizione? Perché gli ingranaggi burocratici, possiamo dire, che stanno un attimino ritardando le varie amministrazioni coinvolte, regione Abruzzo, e poi a mio avviso non c'è stato mai questo interesse per risolvere davvero il problema. Hanno cercato di mettere in campo dei pagliativi, questo è il problema. Il comitato cittadino formatosi per affrontare il problema del Fosso Grande chiede che si utilizzi lo spazio di proprietà del comune di Spoltore lungo la sponda del canale. Lì dovrebbe nascere un parco pubblico e un impianto sportivo, dicono dal comitato, ma sarebbe meglio realizzarci una vasca di espansione. Modificarlo sostanzialmente nel senso di costituire nella zona del parco pubblico un lago, un lago attrezzato come quello della pineta di Pescara, che però nell'emergenza, quando c'è l'emergenza meteo, si chiude come accesso al pubblico e diventa la vasca di espansione a valle. Tra l'altro insiste sulla zona storica di espansione del Fosso, che è la zona della motorizzazione, attualmente cementata. Dopodiché occorre però lavorare a monte con dei salti idraulici, perché il problema è quello di trattenere l'acqua prima che arrivi nell'abitato, nel centro abitato. E di sostruire il canale terminale scatolato, quindi con la mancata manutenzione che tra l'altro ha determinato in qualche modo l'inutilizzabilità del canale stesso, perché sotto ci sono i detriti di due alluvioni, quantomeno per quelli che sappiamo noi negli ultimi dieci anni.